esiste un demone con una grande energia malvagia che sarà capace di camminare sulla terra se qualcuno rivela la sua esistenza e non fa ripetere il nome a qualcun altro al meglio delle mie capacità il suo nome sommariamente è j k q x x l l y u o questo mi è stato detto da un uomo abbastanza trasandato sulla strada e se non l'hai ancora notato te l'ho appena detto